amici di atti sport 24 bentornati nuova puntata di due metri la pallanuto vista da vicino torniamo oggi dopo un po di tempo e per la prima volta nella nuova stagione in casa della formazione maschile della comunuto requaro e per parlare del set allenato da mister simoni ci torna a trovarci capitano jacobo velle gatta ciao jacobo bentornato è un piacere di averti nostro ospite ciao andrea grazie a te per l'opportunità che mi stai dando grazie con grande piacere io inizio la nostra chiacchierata chiedendoti quali sensazioni vi lascia la vittoria ottenuta nella sfida di sabato scorso con l'antenore plebiscito pado ma allora come tutti ben sanno quest'anno abbiamo tra virgolette aperto un nuovo ciclo quindi siamo una squadra molto giovane sicuramente servita al morale siamo partiti un po così un po contratti però dopo la fine alla lunga abbiamo avuto la meglio quindi sai quando ha a che fare comunque con più di metà squadra che la prima la prima con la prima esperienza in un campionato di serie a due diciamo che che fa che fa molto morale ecco certo anche perché poi con i giovani la fiducia è una medicina che sortisce effetti prodigiosi esatto cioè abbiamo un mix di quattro cinque ragazzi con esperienza e poi abbiamo questi sette otto giovani che comunque ci danno ci danno entusiasmo in primis perché si vede che hanno voglia di fare ovviamente la fiducia come dici tu è la medicina no fanno tanti si fanno tanti errori però piano piano limitandoli speriamo di crescere il più possibile di raggiungere il nostro obiettivo prefissato a settembre certo anche perché poi in certi casi raggiungere l'obiettivo regala una soddisfazione molto più grande di quella di una squadra dal roster ordinario sì certo sicuramente dopo quando tu raggiungi i tuoi obiettivi che possono essere dalla salvezza dai playoff da salire nella categoria superiore e ti ripaga di tutto di tutti di tutti i sacrifici ovviamente sempre in ambito sportivo sto parlando che fai durante l'anno appunto per arrivare a quello che ti sei prefissato all'inizio della stagione certo era questo l'inizio di torneo che avevate immaginato ma allora ti posso dire che noi cinque sei ti direi anche sette siamo insieme da tanti anni con lo stesso allenatore quindi cerchiamo di seguire le sue indicazioni e ci fidiamo di lui al cento per cento non è che non ce l'aspettavamo però eravamo ambiziosi di avere iniziare così no e sia la prima partita e la terza siamo siamo riusciti a portarla a casa con due squadre secondo me ottime quindi siamo come ti ripeto siamo molto contenti ma siamo anche focalizzati sul resto no della delle partite che ci sono da qua alla fine del giro di ritorno di andata e anche di ritorno quindi fino alla fine della stagione te la gutto a mo' di provocazione l'obiettivo per un gruppo così giovane e profondamente rinnovato non può che essere come traguardo minimo la salvezza allora ti chiedo passa dalle Moramiche la strada per la permanenza nella categoria di questo collettivo sì allora si sa che noi le nostre mure amiche sono lontane dalla città di Como perché noi giochiamo abbiamo giocato le prime le giocheremo a Monza e poi dopo ci sposteremo a Busto però posso dirti di sì che anche negli ultimi stagioni i nostri risultati più rosei li abbiamo fatti tra le mure amiche sicuramente certo hai parlato di una squadra profondamente rivisitata di senatori che sono il nucleo portante di un gruppo che poi è stato integrato dall'aggiunta di diversi giovani ti chiedo in che modo i nuovi innesti vanno a modificare la conformazione del roster rispetto a quello della scorsa annata ma allora abbiamo perso innanzitutto il nostro centro boa che era un punto fondamentale ed era anche lui un senatore perché non è che era qua da poco tempo che tu ben conosci Emanuele Ciardi no? che intanto pubblicamente vorrei ringraziarlo per quello che ci ha dato questi anni una persona d'oro quindi per noi quella è stata una grandissima perita comunque un centro boa come lui di esperienza ha giocato anche i torni con la nazionale giovanile quindi per motivi di studio ha deciso di rimanere a Milano poi avevamo anche uno straniero che era Eric Zabo che veniva da Palermo la stagione prima di venire da noi che comunque anche lui aveva 28 anni nel senso ci ha dato una grande spinta con gol e quant'altro poi abbiamo perso anche un altro giovane che era in crescita che lo è ancora che si chiama Giacomo Marchetti l'anno scorso è stato il nostro capo cannoniere è andato a giocare alla DH Rina 1 e se l'è meritato e sono contento per lui ha fatto secondo me la scelta migliore e quindi sono arrivati due ragazzi dal busto che l'anno scorso hanno disputato il campionato di serie B sono molto giovani, hanno uno 21 anni e l'altro mi sembra 22 sono giovani però hanno voglia di fare vengono sempre, si impegnano magari non hanno degli automatismi che magari gli altri ragazzi che ci hanno lasciato avevano gli anni passati però sicuramente ci arriveranno si sono integrati bene nel gruppo stanno più o meno capendo come funziona qui da noi quindi ben venga ecco certo vi attende ora una impegnativa trasferta a Bologna con la Presidente che partita sarà quella della Carmen Longo? allora loro se non sbaglio l'ultima partita hanno pareggiato a Soli quindi questo sicuramente è un biglietto da visita per capire a che livello sono anche loro sono una squadra molto rinnovata hanno anche loro 3-4 giocatori di esperienza quindi là non è mai facile giocare perché là noi abbiamo sempre fatto fatica negli anni sarà una battaglia come l'è stata con Padova come è stata per tre tempi con Lavagna e come è stata con Carrara in casa quindi andiamo là ce la giocheremo con tutte le nostre armi sperando che vada nel migliore dei modi chiudo con l'ultima battuta dove si può decidere secondo te il match? sulle superiorità e sulle inferiorità numeriche e soprattutto sul ritmo della partita queste secondo me sono le chiavi su dove si deciderà il match non aggiungo altro va bene noi ci accontentiamo siamo così al termine di questa chiacchierata ringrazio Jacopo Vellegatta per essere intervenuto e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao Jacopo alla prossima ciao Andrea grazie mille grazie mille